Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato. Scusatemi ma ero troppo presa tra il pc e il telefono, oggi cosa ne pensate? E' quasi ora di dare una bella spolverata come si deve a fondo per la casa, vero? Ma aspettate, date retta a me e fidatevi che vi darò degli ottimi consigli e soprattutto degli ottimi prodotti che con pochissimi minuti, circa con 10-20 minuti, riuscite a rendere la vostra casa brillante e stupefacente. Giustamente vi starete chiedendo tramite che cosa? Ma è ovvio, tramite la Super5, ragazzi, sapete, collaboro con questa azienda oramai da tempo e mi ha inviato un altro mega paccone con tanti prodotti per la casa che vi aiuteranno a renderla brillante e strepitosa veramente in pochi secondi. Sul loro sito trovate di tutto e di più, potete acquistare anche i loro prodotti, ovviamente gli store nei negozi di casa Linky, insomma per l'igiene personale della casa e così via, avete capito in poche parole, però se vicino a voi non avete un rifornitore con all'interno prodotti Super5 non vi preoccupate perché tanto online si risolve tutto quanto, c'è un fantastico sito come state vedendo dove troverete di tutto e di più e oltre a ciò avrete la consegna gratuita con una spesa di 59€, meglio di così che cosa volete avere. Il nuovo bottino ricevuto dall'azienda, cosa mi hanno inviato? Un panno per lavare i pavimenti, un kit per la pulizia dei vetri, 4 panni multiuso microfibra, jolly microfibra multiuso, igienizzante spray secco e le mitiche gomitoline. Ecco tutto il nuovo bottino, ringrazio infinitamente l'azienda e vi lascio sotto nell'info box tutti gli altri video dove ho collaborato con loro e dove di conseguenza scoprirete tanti altri prodotti che finora vi ho mostrato step by step. Ma adesso non ci resta che pulire la casa senza la fatica, quindi casa pulita senza fatica come dice il loro slogan e andiamo a vedere step by step come adoperare questi prodotti in una routine di pulizie per la casa. Come primo prodotto partiamo con il kit microfibre Verrolindo, mai più aloni. Il crucio fondamentale delle nostre case è sempre pulire i vetri delle abitazioni appunto, delle stanze. Sì ragazzi, quegli aloni che rimangono stai lì ore ed ore no, però comunque abbastanza mezz'orette e poi alla fine il risultato è quello che è. Grazie a queste due spugnette molto molto morbide e ripeto in microfibra i vostri vetri diverranno come per magia in pochi minuti con un risultato che finora non avete mai ottenuto. Andiamo a vedere come si utilizzano. Molto semplice, partiamo prima di tutto prendendo una ciotolina e mettendo acqua veramente ben calda. Quest'acqua può essere diluita con alcol o con la mughina. Se utilizzate uno di questi due prodotti mi raccomando mettetevi i guanti e state veramente accorti. Io utilizzerò semplicemente solo ed esclusivamente dell'acqua ben calda. Una volta commesso l'acqua ben calda nella ciotolina state vedendo che il kit si compone di ben due pezzettine, di due microfibre, non so come le chiamate. Andate a intiggere nel vostro liquido solo la pezzettina di azzurro più scura perché è lei che lava e sgrassa i vostri vetri. L'altra dell'azzurro più chiaro asciuga e lucida. Quindi andate ad inserirla, la fate ben impregnare del liquido, dell'acqua, la strizzate e poi andiamo sui vetri. Una cosa molto bella di queste pezzette è che essendo così morbide non vanno né a graffiare i vetri. Rimangono super delicate ma da un risultato, come vi ripeto, stupefacente. Ma a parte che adesso lo vedrete voi stessi. Ok, siamo pronti per vedere come funzionano. Neanche a farla apposta, pochi minuti prima che vi giravo questa clip ha cominciato a piovere di rotto e guardate che casino ha fatto i vetri. Cioè, stiamo proprio facendo un test veramente eccezionale. Avete visto come siamo partiti col vetro? E vi ripeto, la pezzetta azzurra, scuro, è solamente in tinta in acqua ben calda, eh. Non c'è nessun prodotto che sta detergendo niente di niente, eh. Adesso non ci resta che andare a prendere la pezzettina, quella lì, azzurro chiaro. Lei asciuga e lucida. Quindi il primo step la facciamo con l'azzurro scuro. Il secondo step, questa qui, deve rimanere ovviamente asciutta totalmente, eh. Quindi lei adesso non farà altro che asciugare e lucidare. Questo kit è utilizzabile non solamente sui vetri della casa, è utilizzabile su specchi e su cristalli. Guardate che spettacolo! Di che cosa stiamo parlando? Veramente eccezionale! Non mi sto inventando niente, eh. Mi avete visto con i vostri occhi. Super promosso. Olio di gomito e partiamo con il primo step per quanto riguarda i pavimenti. La scopa. Poi mi vedrete utilizzare l'aspirapolve e successivamente andremo a detergerli con il mocio, o meglio con il panno, non so come lo chiamate, ricevuto poco fa da loro per questa nuova collaborazione. Ma il mio look da spolvero, da fare pulizie per casa, se amo stare in tuta o in pigiama super extra large, deve essere di due taglie più grandi della mia stazza. Non lo so. Amo la comodità, ragazzi. Cioè, non c'è cosa più bella che fare queste attività comodi e pratici. Non serviva neanche dirlo, ma la scopa che sto utilizzando proviene sempre da loro. Me l'hanno inviata alla collaborazione precedente a questa qui che state vedendo. Non è altro che la scopa mia è straordinaria. Non è perché non ve la decanto tanto all'azienda perché ci collaboro, ma perché ci credo veramente nei loro prodotti. Hanno una qualità a prezzo super competitiva con tanti brand, tanti marchi molto molto commerciali. Loro hanno appunto qualità più il prezzo giusto per il popolo e veramente sono strepitosi. Oramai da quando li conosco uso sempre e solo. Pian pianino incominciamo a prendere coscienza che è importante anche detergere e pulire a fondo le superfici, quelle un po' più alte, gli oggetti che compongono le nostre case. Con che cosa? Ma sì ragazzi, dai, gli alleati magnifici saranno questi panni jolly microfibra multiuso. Straordinari perché lava, usa e riusa. Veramente utilizzabili in tanti ambiti, in tanti modi. Cioè guardate, la cucina per rimuovere il make-up, per il bagno, per la tv, le superfici, in viaggio, in palestra e così via. Per la tv e vai! È proprio il momento di pulire appunto il televisore. Veramente unici e si compongono di questa confezione da 12 pezzi. Il panno, vedete, ha una morbidezza, perciò non vi va neanche a graffiare tipo gli schermi come andrò a pulire poco fa io la tv. Cioè più che poco fa, tra pochissimo la tv con voi. Unici, morbidissimi. È la cosa molto molto bella che si possono utilizzare in diversi ambiti delle nostre mansioni, azioni quotidiane. Gli alleati da tenere sempre con noi e a portata di mano soprattutto. Io spero che dalla videocamera si avverte. Ha catturato, non lo sporco perché comunque la pulisco tutti i giorni la tv, però ha catturato anche quella piccola polvere. È una pulizia ed un'altra un po' di pausa, un break ci sta veramente da dio. Perciò prendo un telefono e vado a svagare per poi dopo pensare che dovrò fare tutti gli altri step. Mai come in questo periodo è fondamentale l'igiene ragazzi. L'igiene sia delle nostre abitazioni come stiamo vedendo step by step quanto l'igiene della nostra persona. Il periodo storico che stiamo vivendo ci porta ad avere un'igiene che in teoria dovrebbe essere da sempre super elevata. Però mai come in questo periodo con il covid, voglio entrare in ambiti brutti per demoralizzarci tutti quanti, però mai come in questo periodo questo one day più igiene entra in gioco veramente da dio. Che cos'è? È un igienizzante spray secco alcol 75%, non bagna e non unge. Si può utilizzare su abiti e tessuti, su mascherine, su mani, oggetti e scarpe. Io me lo sono spruzzato sulle mani perché amo questo odore pazzesco che ha di limone. È un qualcosa di avvolgente, meraviglioso. E poi la cosa bella è che questa bombolettina è super compatta, quindi potete portarla con voi ovunque preferite. O semplicemente utilizzarla per detergere e igienizzare a fondo appunto tutti gli altri indumenti, le mascherine e così via. Come vi dicevo, poc'anzi. Lascia questo profumo immenso e la cosa bella, ripeto, che non bagna e non unge. Quindi ottimo alleato anche lui per questo periodo ma anche per tutti gli altri. Accendiamo l'aspirapolvere e facciamo il giro di tutta la casa o meglio di tutti i pavimenti. È vero, poco fa abbiamo passato la scopa, però la scopa leva il superficiale. Invece secondo me l'aspirapolvere va a catturare veramente tutto quello che c'è da prendere sulle superfici. Siamo arrivati al momento della pulizia del bagno, fondamentale farla super approfondita e bella intensa. Di che cosa avremo bisogno? Avremo bisogno di ben 4 multiuso, microfibra, confezione e convenienza. Non sono altro che 4 panni in microfibra, come vi dicevo pochissimo fa, super morbidissimi, super praticissimi e che vi aiuteranno a detergere superfici, oggetti e così via. Vi ho preso come campione, ma sono tutti quanti uguali, quello lì verde perché è il mio colore preferito. Come avvertite dalla videocamera, spero si noti, sono di una morbidezza pazzesca. Il taglio che vedete non è a caso, è un bordo fatto apposito tagliato con laser antigraffio. Andiamo a metterla all'azione insieme. Utilizzare questi panni in microfibra è veramente semplicissimo. Potete intingerli nell'acqua, strizzarli e poi utilizzarli, oppure potete spruzzarci sopra il vostro detergente di fiducia. Andrà a utilizzare il profumissimo che fa sempre parte della linea della Super 5 perché è un detergente molto leggero ma super super profumato. Perciò dove andrete a utilizzarlo vi persiste questo odore di fresco, di veramente pulito per ore ed ore e ve lo consiglio tanto. Quindi andiamo a pulire tutte le superfici del bagno. Ovviamente le pezzette potete utilizzarle anche sulla cucina, dove preferite. Io ve le sto facendo vedere all'azione sul bagno perché è il punto o meglio è l'ambiente che devo pulire in questo istante. Turano anche lo sporco più ostinato, sono lavabili a 40 gradi in lavatrice, sono pratiche veloci e veramente di ottima resa. Vedo che la giornata stava prendendo una piega bella intensa per quanto riguarda le pulizie, ho pensato bene di dare una coccola anche al piano cottura. È vero che la mia mamma lo pulisce tutti i giorni, a gestire la casa siamo io, mamma e mia sorella, quindi ognuno fa il suo. Però ho detto, beh dai, tiriamo fuori questo nostro must sempre ricevuto da loro, dalla Super 5 ovviamente. Mesi e mesi fa, forse risaliva addirittura alla prima collaborazione. E anche lui, ve lo consiglio tantissimo, è un panno ideale per lucidare l'acciaio inox, è strepitoso. Però il protagonista non è lui, ma bensì sono loro. Pagliette in polimero, antigraffio, le mitiche gomitoline. Andiamo a metterle all'azione insieme. Come si usano queste gomitoline? Non serve altro che mettere un po' di detergente per i piatti. In questo caso, per fortuna, l'avevo terminato, altrimenti ve l'avrei fatto vedere, l'Ocean Power della Super 5. Se lo trovate nei negozi di casalinghi, prendetelo, perché è veramente straordinario. Quindi, detergenti per i piatti, le bagnate e via all'azione. Che cosa sono? Non sono altro che l'evoluzione della classica paglietta in acciaio inox, solamente super colorate e 100% in poliestere antigraffio. Sono ideali per antiaderenti, lavabili lavastoviglie, super esistenti e salvamani. E saranno delle alleate strepitose per rimuovere lo sporco più ostinato dalle nostre lavastoviglie a 360. Secchia la mano, andiamo a riempirlo con acqua ben calda e siamo alle battute finali. Quindi, pronti a lavare i pavimenti. Andrò a utilizzare un detergente per pavimenti Super 5, ricevuti anche loro da una collaborazione, forse la prima, e da allora con mamma li ricompriamo sempre. Hanno diverse tipologie in base al flacone e in base alla fragranza. Lasciano questo profumo intenso per ore ed ore, strepitosi. Pronto a metterlo all'uso non è altro che il microfibra panno MOB, non graffia ed è strepitoso perché è composto da tre grandi panni in MOB, spero si pronuncia così. Strepitoso perché oltretutto ha un attacco universale, adatto a tutti gli strizzatori, ideale anche per chi ha il parquet. Come avrete ben capito, non è il classico panno che abbiamo tutti quanti per lavare i pavimenti in casa. A me è un panno, o meglio, è il super panno in microfibra, molto delicato. Essendo così delicato, quando andate a lavare i pavimenti non ve li graffia né ve li rovina. Per questo è ideale anche per i parquet, che come ben sappiamo sono superfici veramente delicatissime solamente a guardarle. Inoltre con il suo speciale effetto di tre panni in uno, rimane molto delicato e questo già l'abbiamo detto, ma allo stesso tempo già dalle prime passate vi lucida e vi pulisce veramente in un batti il baleno. È un amico super fidato da avere sempre a portata di mano quando si tratta di panni. Ragazzi, con questo è veramente tutto. Il nostro viaggio nelle pulizie con la Super 5 è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Tutte le info sotto nell'info box. Ci vediamo venerdì alle due e mezza con nuovi sul canale. Vi mando un bacione immenso, immenso, immenso. Un abbraccio fortissimo. Casa pulita, senza fatica. Ciao!